Ciao amici, sono passati sei mesi da quando ho iniziato questo simpaticissimo progetto e è stato tutto molto bello, grazie, voglio ringraziarvi ho registrato delle canzoni carine, altre no, per niente e voi comunque mi siete stati vicini, io ho sentito forte il sostegno e il calore del vostro cuore questo è il centesimo video che registro e lo so che non vi piacerà sentirlo però è l'ultimo centesimo video che registro, mi dispiace dalla settimana prossima ci sarà il centonesimo video e a quel punto non potrò più tornare indietro, mi dispiace volevo approfittare di questo momento per trarre alcune considerazioni nostalgico-riflessive su questi ultimi mesi insieme ho iniziato questo progetto, non dimentichiamocelo, per ristabilire la parità di genere nel mondo delle cover indie in questi mesi ho raggiunto dei risultati interessanti, 400.000 visualizzazioni, 2500 iscritti ho guadagnato quasi 100 euro, sono diventato ricchissimo con le cover però la situazione generale non è cambiata per niente io voglio qui denunciare oggi più ancora di ieri il fatto che il mondo delle cover indie appresenta una fortissima discriminazione di genere noi cover boys siamo sistematicamente ignorati io ho pubblicato 100 video, nessuno mi ha mai condiviso eccetto quelli che mi conoscevano già grazie amici, però voi e i parenti purtroppo non contate è un unico caso Willy Damasco che come me condivide il mistero e l'anonimato ciao Willy, grazie ancora tutti gli altri invece in questi mesi hanno condiviso soltanto le cover fatte da donne mi dispiace, è andata così anche per quanto riguarda le pagine Facebook la situazione è migliore se escludiamo sei tutto l'indie di cui ho bisogno che cazzo è liberato e i star democratici anche le pagine mi hanno ignorato mi dispiace così io poi magari mi sono dimenticato anche qualcuno scusate magari non mi avevate taggato bene comunque il concetto generale non cambia noi cover boys veniamo discriminati ma io non mi arrendo continuerò ogni giorno a registrare delle cover discutibili e fuori sincrono continuerò la mia battaglia e forse un giorno riceveremo anche noi cover boys i like che ci meritiamo ciao